Ciao a tutti, siamo qua a Spa, è finita la gara e la prima bella notizia è che l'abbiamo finita, quindi il primo risultato che volevamo ottenere l'abbiamo ottenuto. Ci sono stati un po' di problemi durante la gara, quindi abbiamo perso tanto tempo, però la macchina ha sempre funzionato bene e noi piloti siamo sempre comportati piuttosto bene, non abbiamo fatto grossi errori, per cui diciamo che poteva andare meglio, ma comunque come prima volta anche per il team Antonelli è un ottimo risultato e finire la prima 24 ore della propria vita non è da tutti e personalmente è la prima volta che la finisco così, insomma senza troppi intoppi, quindi sono molto contenta e li ringrazio moltissimo per questa esperienza. Abbiamo finito ventottesimi assoluti e decimi di classe su 65 partenti assoluti e quasi 30 di classe, per cui comunque non possiamo lamentarci ed è andata fondamentalmente bene, quindi adesso credo che andremo tutti a dormire, a riposarci e basta. Grazie per il supporto perché ho visto che ci avete seguito tutta la gara e ci vediamo alla prossima gara. Ciao ciao!